Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di telestense boom di vaccinazioni nel ferrarese. Numeri mai visti, quelli riferiti a ieri, più di 4.200 le dosi somministrate in un giorno, campagna vaccinale, continuano gli open day, oggi è stata indetta un'altra serie di giorni che sono andati tutti esauriti in provincia di Ferrara, ne parleremo a breve, poi si inizia a vaccinare nelle aziende tipo Bonifiche Ferraresi, inizieranno le prime vaccinazioni dentro un'azienda agricola in questo caso, ma parleremo anche del dibattito politico che si è acceso e ha scaldato il dibattito in città riguardo l'azzeramento della commissione urbanistica e poi parleremo anche di SPAL perché ci sono conferme sul dialogo tra la dirigenza e Tacopina sul futuro societario bianco-azzurro, ma partiamo da una delle ultime notizie, quella sulla vertenza celanese è arrivata nel tardo pomeriggio questa notizia, in regione è stato raggiunto un accordo per lo stabilimento di via Marconia Ferrara, salva l'occupazione, il sito produttivo acquisito da un gruppo già operante nel complesso chimico ferrarese, confermate le condizioni per la nascita di un polo mondiale della chimica, Forlì un tavolo di crisi si trasforma in un accordo di sviluppo regionale, ora si apre per Ferrara e Forlì una nuova fase di investimenti che sosterremo e accompagneremo, hanno detto il presidente della regione Bonaccini e l'assessore Colla alla firma di questo accordo, c'era anche il sindaco di Ferrara Alan Fabri, ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio. Trovata una soluzione per l'avvertenza celanese di Ferrara, soluzione che salvaguardia in modo pressoché totale l'occupazione, assicura la continuità produttiva del sito ferrarese di via Marconi con una cessione di ramo all'azienda della Benvich e soprattutto crea presupposti e condizioni per la nascita di un polo mondiale della chimica, Forlì, dopo che la multinazionale americana ha confermato la scelta di investire in Emilia-Romagna e concentrarvi l'attività del sito di via Marconi di Ferrara e i due siti che si trovano in Germania. E' questo in sintesi quello che prevede l'accordo sottoscritto in regione che porta ad una soluzione dell'avvertenza. Punto di partenza è la scelta di Celanese Production e Celanese Services di istituire un centro di eccellenza nel sito produttivo di Forlì che rappresenterà un fulco strategico per l'attività per l'intera Europa e si aggiungerà ad altri due centri di eccellenza mondiali in Cina, negli Stati Uniti d'America. Saranno messi in campo investimenti nel sito in piazzale Guido Donegani e Ferrara per consolidare e sviluppare le produzioni attraverso non solo l'installazione di una nuova linea di produzione ma anche lo sviluppo dell'applicazione in ambito medicale dei propri prodotti anche attraverso l'installazione di una nuova linea pilota. Dopo un confronto sia sul piano sindacale che istituzionale, Celanese ha trovato nel gruppo Benvic, leader della produzione di soluzioni termoplastiche a base di PVC altamente innovative e biopolimeri ecologici già attivo presso il complesso chimico di Ferrara, la disponibilità da cogliere con un'accessione di ramo d'azienda il trasferimento di parte del complesso aziendale di Ferrara di via Marconi di Celanese e con esso 33 dipendenti addetti senza alcuna interruzione dei rapporti di lavoro di quello stesso complesso aziendale. Sono invece 23 i lavoratori di Celanese che dal sito di via Marconi andranno a rafforzare il personale del sito di piazzale Donegani sempre a Ferrara, 11 dei quali saranno impiegati nella costituenda unità operativa di Celanese Service nell'ambito del progetto del centro di eccellenza basato a Forlì. Due lavoratori del sito di via Marconi hanno accettato il trasferimento nel nuovo polo. Per cinque lavoratori è stato raggiunto un accordo di soluzione consensuale nel rapporto di lavoro per mancata accettazione del trasferimento. Cambiamo argomento adesso nuovi open day vaccinali da domani mercoledì 9 giugno fino a domenica 13 giugno in quattro centri vaccinali della provincia a Comacchio, ad Argenta, a Codigore e a Cento con quasi 1500 dosi a disposizione di Johnson & Johnson. Sulla scia del successo degli open day e gli open night organizzati nei centri vaccinali della provincia di Ferrara per accelerare la campagna di vaccinazione contro il Covid-19, l'azienda USL ha organizzato iniziative analoghe anche a Comacchio, Argenta, a Codigoro e Cento da mercoledì 9 a domenica 13 giugno. A disposizione ci saranno 1430 dosi del vaccino monodose Johnson & Johnson così distribuite, 720 dosi a Comacchio, 110 ad Argenta, 300 a Codigoro e 300 a Cento. Le modalità di prenotazione degli open day rimangono le stesse, le persone interessate di età compresa tra i 18 e i 39 anni potranno prenotarsi sul sito dell'azienda USL di Ferrara cliccando sull'apposito banner già attivo fino a esaurimento delle dosi disponibili. Somministrazioni che si aggiungono al regolare piano vaccinale che prosegue a pieno regime scaglionato per fasce d'età e alle aperture serali in corso alla fiera di Ferrara dove da lunedì 7 a domenica 13 giugno verranno somministrate 250 dosi ogni sera dalle ore 20 alla mezzanotte per un totale di 1750 dosi. Un potenziamento importante fortemente voluto dall'azienda sanitaria territoriale che ora si estende nei tre distretti sanitari della provincia estense e che con queste ulteriori 1430 dosi arrivano un totale complessivo di 3.180 inoculazioni. Chi avesse prenotato, dovesse cambiare idea, deve inviare un'email con nome, cognome, codice fiscale estremi dell'appuntamento che aveva fissato all'indirizzo info.vaccinazionicovid19.it, un indirizzo che però non serve a cambiare l'appuntamento o per chiedere informazioni ma solo per informare che si vuole disdire la propria prenotazione. E anche questa volta come nelle scorse, nelle aperture serali, negli open day precedenti, sono bastate meno di tre ore oggi pomeriggio per esaurire i posti disponibili per gli open day vaccinali appunto organizzati dall'azienda USL e quindi non ci sono più posti ma sicuramente verranno aperte nuove prenotazioni prossimamente sia per gli open day ma anche lo sapete in questi giorni per le prenotazioni tramite fascicolo sanitario elettronico, tramite farmacie e si sono aperte nuove fasce di età, ne abbiamo parlato in questi giorni. Intanto a Ferrara si è raggiunto il record di vaccinazioni in un giorno, ieri nel Ferrarese dove si è andati oltre le dosi giornaliere pronosticate fino a qualche mese fa più di 4.200 le somministrazioni e ieri intanto però nel bollettino coronavirus si registra purtroppo un altro decesso mentre la curva pandemica sul nostro territorio continua a essere in fase discendente. Boom di vaccinazioni nel Ferrarese lunedì dove sono state somministrate 4.800 dosi di vaccini anti-covid a incidere sicuramente anche le aperture serali partite proprio lunedì ma è registrato un numero così alto di inoculazioni e probabilmente si sta andando oltre le previsioni che le autorità sanitarie fecero a inizio campagna di vaccinazione di massa a febbraio scorso. In totale a lunedì erano più di 161.000 i ferraresi che hanno ricevuto almeno una dose e quasi 97.000 i cittadini estensi immunizzati. Si registra però nel bollettino di martedì nel Ferrarese un altro decesso a causa delle complicazioni portate da covid vittima una donna di 84 anni 6 decessi nel resto della regione. Tornando sul territorio ferrarese 6 nuovi positivi su 85 tamponi eseguiti 18 nuovi guariti. Se ci spostiamo in Emilia Romagna sono 99 nuovi casi. Per la prima volta dal 29 settembre scorso in Emilia Romagna si registrano meno di 100 casi di positività al coronavirus in 24 ore. Ma calano anche i ricoveri. In terapia intensiva e in regione ci sono infatti 70 pazienti, due in meno di lunedì, mentre ce ne sono 386 negli altri reparti covid. E la guerra al covid si sposta fra campi di grano e mucche con il via alle prime vaccinazioni dentro un'azienda agricola nella sede di Bonifiche Ferraresi a Iolanda di Savoia dalle ore 9 di domani e mercoledì 9 giugno. Nel campus dell'azienda agricola più grande d'Italia è stato creato a supporto della rete nazionale organizzata dal commissario Figliuolo e in collaborazione con la Col di Retti si è organizzato un percorso dedicato per accoglienza, triage, due postazioni vaccinali e area osservazione. Le somministrazioni delle dosi in campagna è un'opportunità resa possibile dall'estensione appunto del piano vaccinale alle categorie produttive che ha visto l'organizzazione agricola protagonista a tutela della salute appunto dei propri dipendenti e associati su tutto il territorio nazionale. E adesso però cambiamo totalmente argomento, parliamo di politica politica ferrarese, parliamo dell'azzeramento della commissione urbanistica, è molto acceso il dibattito in città in questi giorni, sentiamo tutti gli aggiornamenti e i prossimi passi di questo dibattito molto acceso in questo servizio. Le commissioni non si fanno e non si distano a comando e questo certamente l'aggiunto del comune di Ferrara lo sa, non si stupirà quindi del terremoto politico e mediatico suscitato dalla decisione presa in questi giorni in silenzio e tutta fretta di liquidare la commissione per la qualità architettonica del paesaggio chiedendo le dimissioni dei suoi componenti, cinque professionisti, un ingegnere, un geologo, un geometro, due architetti nominati poco più di un anno fa sulla base di curriculum selezionati e valutati come adeguati della giunta stessa. Intanto in attesa della convocazione chiesta ieri da Sone Civica e segreteria del Partito Democratico Comunale e della Commissione Urbanistica per fare luce sulla vicenda, anche la consigliere del gruppo misto, Anna Ferraresi, annuncia oggi di voler monitorare la nomina dei nuovi componenti della commissione. È stato demolito, spiega, un edificio tutelato dal piano urbanistico con modalità e tempistiche che destano enorme perplessità. Esperti della materia continua dicono anche in violazione dei regolamenti, quindi aggiunge di avere provveduto insieme a tecnici del settore, dopo un attento studio dei documenti, ad attivare l'autorità di controllo e di vigilanza e la procura di Ferrara, alla quale è stato presentato un esposto dettagliato ed articolato. Il metodo usato, i cittadini ormai lo hanno capito, sembra appartenere a questa giunta di centrodestra, che da un lato ama essere tutti i giorni sulla stampa per le iniziative di promozione della città e di autopromozione, dall'altro mentre la sordina tenta di farlo alle azioni politiche più delicate e potenzialmente controverse, che dovrebbero proprio per questo essere oggetto di confronto trasparente e democratico con le opposizioni, dal punto di vista almeno di una corretta comunicazione con gli elettori. Il silenzio, usato in politiche in genere per paura di perdere il consenso, diventa controproducente quando c'è chi porta alla luce ciò che si voleva passasse in sordina, diventa addirittura una sorta di boomerang per i politici silenti, perché genera sospetti, voci malevoli, dicerie nelle opposizioni e disorientamento nei cittadini. Sta di fatto che in assenza di motivazioni ufficiali ci si deve accontentare di qualche esternazione anonima. Nella lettera con cui il direttore generale del Comune di Ferrara ha chiesto o preteso le dimissioni date da quattro membri della Commissione, ma non dal suo presidente, l'architetto Renaldo Campi, che pare abbia chiesto a sua volta chiarimenti e il rispetto delle norme, si parla o no di interessi privati in atto pubblico? L'accusa è pesantissima per un professionista come per un politico, se c'è a chi è rivolta, se non c'è. Quale altra motivazione può aver indotto la Giunta ad annullare una commissione che è alle dirette dipendenze del Sindaco? Quale sarà infine la reazione degli ordini professionali di fronte ad uno smacco di questa portata? E perché decidere di procedere dopo aver impoverito di professionisti il vertice del settore dell'urbanistica e dell'edilizia privata alla eliminazione di una commissione necessaria per il buon andamento dei servizi alla città e che quindi dovrà essere al più presto ricostituita? Ma quale professionista c'è da chiedersi? Avrà voglia di candidarsi per un incarico che, come è stato dato, può essere tolto da un giorno all'altro in modo così oscuro? Cambiamo argomento adesso giovedì 10 giugno alle ore 9.30 nel Palazzo della Racchetta di Ferrara in occasione della quarta edizione del Ferrara Film Corto. È in programma un incontro dedicato alle tematiche ambientali per la cura del creato e per la salvaguardia della vita. Interverranno l'arcivescovo di Ferrara Comacchio, Monsignor Giancarlo Perego e il rabbino capo della comunità ebraica di Ferrara Luciano Meir Caro. L'incontro sarà accompagnato dalle proiezioni di alcuni video sul tema. E adesso parliamo di turismo e di agriturismi perché le oltre 1.200 strutture dell'Emilia Romagna sono pronte a ripartire per una vacanza fra natura, sapori, arte e sport a cominciare da subito adesso prenotando per l'estate con un nuovo portale ad hoc presentato questa mattina in regione dall'assessore all'agricoltura Mammi. È un comparto significativo per l'economia dell'Emilia Romagna e ora è pronto a ripartire in sicurezza. È il comparto degli agriturismi che la regione ha sostenuto con quasi 30 milioni di euro per misure strutturali e ristori negli ultimi mesi. Ma ora per gli operatori che hanno pagato a caro prezzo le limitazioni dovute alla pandemia serve un ulteriore passo in avanti sul lato della promozione turistica. Per questo nasce un nuovo portale affiancato da una campagna di comunicazione dedicata alla molteplicità delle attività e delle offerte legate alle imprese agricole e agrituristiche e non solo nel periodo estivo, dalle bellezze naturalistiche alle eccellenze no gastronomiche oltre alle esperienze di relax, cultura didattica e gusto che solo la vita rurale sa offrire. Gli agriturismi emiliano-romagnoli sono pronti quindi ad accogliere i nuovi turisti italiani e stranieri con proposte di vacanze differenziate ma anche sicure e all'insegna della sostenibilità. Una grande voglia di ripartire, di accogliere tantissime persone, emiliano-romagnoli, italiani e anche turisti stranieri. In queste strutture meravigliose sono oltre 1200 le strutture agrituristiche della nostra regione. Nell'agriturismo la terra si incontra con la tavola quindi è possibile assaggiare direttamente i prodotti agricoli del nostro territorio. Sono luoghi di relax, di sport, di socialità, di cultura che consentono a un turista di entrare in contatto diretto con la natura e con l'ambiente meraviglioso che ci circonda e anche con gli animali. E quindi sono luoghi davvero molto molto belli, molto importanti da vivere. Noi li abbiamo sostenuti in questi anni attraverso 25 milioni di euro di investimenti del PSR e 3 milioni di euro destinati a dare una mano al sistema agrituristico ad affrontare l'emergenza Covid. Continueremo a farlo, vogliamo farli conoscere, vogliamo attirare persone, utenti e turisti nei nostri agriturismi attraverso anche questo nuovo portale molto semplice e anche molto interattivo che offre tutte le informazioni necessarie. Agriturismi come hai detto in difficoltà nell'ultimo anno e mezzo da questi luoghi molto importanti per il Ferrarese. Si vuole ripartire appunto da qui, vuole ripartire il turismo locale anche col diretti che insieme a Campania Amica e Terra Nostra hanno organizzato un'importante iniziativa per sabato prossimo dove si andrà in bici tra fiumi e delizie estensi. Di questo e di altro si parlerà domani sera durante Campania Amica News su Teleestens alle ore 20. Ne vediamo un estratto insieme. Turismo, ristorazione e agriturismi. Questi tre settori maggiormente colpiti dalla pandemia e sono questi in cui c'è la maggiore voglia di ripartire. Pur tra mille difficoltà nell'ultimo anno e mezzo, ora si vuole andare oltre. È stato un anno particolare, mai successo nella nostra storia penso più recente ma anche meno. Abbiamo subito molto il calo e il vincolo sulla mobilità delle persone. Tant'è che appunto abbiamo avuto dei mesi di chiusura che non erano mai successi bene o male. C'erano i weekend che portavano già turismo da fuori, mentre l'anno scorso abbiamo subito proprio in pieno il calo. Colpa anche un po' delle chiusure tra regioni in base ai colori che ci sono state. Quest'anno speriamo che ci sia un po' più di apertura da fuori regione. Abbiamo già diverse presentazioni dal Lazio ancora e dalla Lombardia e quindi siamo fiduciosi che si possa riprendere un po' di normalità anche se non sarà al 100%. Sabato 12 giugno si terrà un evento che rappresenta la rinascita di questo settore e col diretti Ferrara insieme a Campagna Amica e Terra Nostra ha organizzato l'iniziativa in bici tra fiumi ed elizie. A partire dalle ore 15 si viaggerà lungo il percorso cicloturistico di Campagna Amica. Sarà un sabato particolare fatto apposta per voglia di riscattare un po' il turismo e tutto quello che ci è stato privato prima. Abbiamo pensato di fare un percorso cicloturistico sul territorio prendendo come pretesto due fiumi che sono insediati nelle nostre zone uno è il Sandolo e l'altro il po' di Volano. Seguendo il tracciato un po' di questi fiumi passeremo per delle delizie estensi quindi entreremo nel territorio di Voghiera e vedremo bel riguardo il verginese, gli scavi che ci sono della necropoli romana di Evogenza. Non sarà solo un percorso diciamo culturale classico ma entreremo in contatto proprio con delle realtà produttive e agricole del territorio. Il percorso tocca delle aziende di Campagna Amica, una full immersion in quella che è la cultura e la tradizione anche contadina del nostro territorio. Ma cosa deve fare chi vuole partecipare per renotarsi contattando il numero sulla locandina? Ci saranno anche le autorità e in questo ringraziamo anche la pubblica amministrazione di Ferrara nella figura di Farnasini, assessore al turismo che ha deciso di patrocinare la nostra attività come anche al sindaco di Voghiera, ben felice perché cicloturista anche lui, di partecipare a questa iniziativa. Abbiamo avuto la collaborazione di FIAB che ci ha dato uno spunto e aiutato a mettere giù il programma e creare i percorsi cicloturistici. SPAL adesso è arrivata la conferma degli incontri che la dirigenza Biancozzurra e Gioeta Coppina hanno avuto in questi giorni. La società Spallina e l'ex dirigente di Roma, Bologna e Venezia hanno infatti predisposto un comunicato che inizia a fare chiarezza sulla situazione appunto della SPAL. SPAL che insieme all'avvocato Tacopina comunicano che dopo lo scambio di informazioni avvenute tra le parti nelle ultime ore e in considerazione dell'apertura della proprietà all'ingresso nella partecipazione societaria di nuovi soggetti è iniziata così un'analisi legata alla manifestazione di interesse dimostrata. Tale manifestazione non ancora condotto alla formulazione di nessuna offerta precisa il comunicato. A questo punto non resta che capire cosa maturerà nel corso dei prossimi incontri e un approfondimento su Tacopina e la SPAL lo trovate su telestense.it. Prima di salutarci questa sera in tv su Telestense alle ore 20.05 la rubrica primo piano in cui si parlerà del nuovo mammografo 3D inaugurato il 26 maggio scorso e poi alle 21.30 appuntamento con Avis Perle e sulla settantesima assemblea dei donatori Avis di Ferrara e sempre questa sera è martedì alle ore 22 c'è l'appuntamento con il processo al Gran Premio condotto in studio da Veronique Blasi. Ecco con questi appuntamenti televisivi è tutto io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.